Siamo in centro a Padova e dove c'è un negozio che stimola molto la curiosità di giovani, meno giovani, ragazze e ragazzi. Andiamo a vederli insieme. Ciao, buongiorno. Ciao. Volevo sapere che cosa offrite qui con questi prodotti fantastici, anche molto colorati. Allora, noi facciamo tutti i prodotti freschi, fatti a mano e non testati sugli animali, se è la cosa più importante. Vieni com'è, ti faccio vedere. Una cosa che rappresenta bene il nostro negozio sono i prodotti nudi, tipo queste. Sono creme solide per il corpo, fatte a base di burro di kariteco solidare, burro di cacao, in questo caso burro di mango. Si massaggiano sulla pelle, in questo modo, e si sciolgono a contatto col calore. Sono ottime per fare i massaggi, come creme mani, come creme corpo, se volete qualcosa senza conservanti e che non danneggi l'ambiente, perché non consumiamo né plastica né carta per confezionarli. Quindi siamo un negozietto etico che vuole fare prodotti per la cura del corpo, che facciano bene sia a voi, sia a tutto quanto all'ambiente, sia agli animali, che alle persone che sosteniamo. Ecco, qui vengono ragazze, ma anche ragazzi. Anche ragazzi, perché ad esempio i ragazzi apprezzano molto sia l'idea dell'olio di massaggio, perché è una cosa divertente, molto profumata, sia alle ragazze, perché il burro di karite è illuminante, quindi ottimo per la pelle, e sia signore, signori, tutti in realtà. È un negozio per tutti quanti, abbiamo davvero tantissime cose per ogni età. E non facciamo distinzione, perché c'è a chi piacciono le cose dolci, c'è a chi piacciono le cose fresche. Possiamo accontentare chiunque, grandi e piccini. Grazie.